Musica Mancano solo 8 giorni Iniziamo il vlog perché serve iniziare Con i tuoni Buon primo settembre a tutti Io il 9 settembre ho questo famoso concerto di Fabrizio Cominciamo con l'anzietta Perché ancora non so se ho vinto oppure no Questo fatidico concorso Che vi spiego Allora in poche parole consisteva di fare una cover Di una delle canzoni di Fabrizio Scelto Pensa Che non caricherò qui E se la fortuna sta dalla tua parte Vinci questa foto Io credo che la fortuna non sia dalla mia parte Dopo quell'esperienza di Frank Matano E iarteteca se non avete visto il video vi lascio il link qui Qui o giù nell'info box non lo so Dopo quell'esperienza le mie prospettive verso la fortuna Sono ben diminuite Da 2% allo 0% Il termine per vedere questo fatto dei vincitori Io non so cosa succederà oggi Perché hanno dato come data il primo settembre Ora non so se diranno i vincitori Oppure chiuderanno il termine Per Per mandare i video Non lo so Intanto Ho una ciocca blu E vi dirò Io ho un'ansia pazzesca Ma un'ansia proprio perché voi non avete idea Ora sapete cosa faccio Attendiamo E nel contempo Scriviamo i nuovi video per youtube Questa è la mia faccia ora Hanno pubblicato E hanno detto che a mezzogiorno diranno i vincitori Ho un'ansia che voi non avete idea Quindi Però quando vedrete questo vlog Chissà Se avrò o non avrò questa foto Io dico che non l'avrò Ciao a tutti Allora eccomi tornata Anche se mancano ben due giorni Io sono pronta per questo concerto E sto per fare I miei followers decidono il mio outfit I sondaggi appariranno Qui Quindi ecco il primo sondaggio Ci vediamo quando hanno deciso Cosa dovrò mettermi Ok Eccoci tornati Hanno deciso I fan su Instagram Qui Troverete La Slide con il risultato Quindi indosserò La maglia numero Due Ok Ora Devo fare il sondaggio Per quanto riguarda Che paio di scarpe Devo mettere Quindi Qui Troverete Il sondaggio E ci vediamo Più tardi Quando i fan hanno deciso Che paio di scarpe Devo mettere Il pre-concerto Punto Il pre-concerto Si apre Con La pre-illustrazione Del luogo Dell'evento Ciao raga Scusate per la qualità Scusate per tutto Ma è tardi Non voglio di fare niente Questo è l'ultimo pezzettino Di vlog Del pre-concerto Ho visto Ho visto il concerto Di Ermal e Fabrizio Fatto con Emergency E Ormai manca poco Manca solo un giorno Domani È il grande giorno Quindi Per me È tra 24 ore Però per voi Inizia il vlog Fra Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché oggi lo mangio qui a casa, pazienza, e ci vediamo chissà in quale parte del mondo, aspettando l'evento di stasera che vi racconto sta cosa, becco la mia professoressa di educazione fisica delle medie all'evento di questa sera. Forse. Io spero di no perché sicuro ci sarà un bordello di gente. E intanto voglio anche sperare di riuscire a vedere da vicino almeno sentirlo cantare da vicino Bezio. Intanto come state spero bene, in più non vedo l'ora che arrivi questa sera. Ieri sono andata a vedere dove più o meno si svolge la situation. Ed è fighissimo raga, poi stasera vedrete tutto. Non vi voglio spoilerare nulla. Io vi saluto. Ci vediamo più tardi. Ciao. Hola. Oddio il tempo non passava mai. Però ci siamo. Raga, si parte. Fa strano dirlo, si parte. Però questa volta sarò io e la regia. Raga, che emozione. Poi non avete idea, ma finalmente lo posso dire. Distanza, questa volta ho vinto di nuovo. È la mia prima volta che incontro Bezio e sono emozionatissima. Io non vedo l'ora di arrivare. a destinazione. Vedo un miraggio. Ragazzi, siamo arrivati sani e salvi all'Endo Summer Festival. Io sono qui, non vi preoccupate. E ci incamminiamo. Raga, sani e salvi arrivati all'evento. Che bello. Ora il problema sarà l'attesa. Vediamo un po' cosa possiamo fare per passare i tempi. Raga, mi sa abbiamo sbagliato retta. E siamo capitate dietro al palco. Come la mettiamo? Facciamo il giro? Facciamo il giro. Raga, mi sa mi sa? Abbiamo la prima fila forse? Allora ragazzi, ho comprato la fascetta, unico dilemma, a due lati. Questo è il primo lato, questo è il secondo. Dove la devo mettere? Pronta? Ora il problema sarà l'attesa. Di certo mi metterò a parlare con qualcuno, qualche amante del disagio nei concerti. Però intanto, sì, abbiamo la prima fila. 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 Sì, abbiamo la prima fila.